Il gioco delle bugie Ok, però questo gioco lo facciamo un'altra volta Adesso spieghiamo le regole di mai dire in youtube Innanzitutto questo è un gioco che potete fare tranquillamente Basta avere un bici Potete giocare tranquillamente mentre lavorate Mentre fate sport Mentre state in poltrona O mentre trombate Ecco come funziona Ogni settimana noi carichiamo un video su questo accanto qua Nel video inizio noi cercheremo di farvi capire a quali dei nostri video ci stiamo riferendo In questo video noi avremo nascosto un link Un link invisibile Voi dovrete capire dove sta nascosto questo link Dovrete individuare il momento e la scena E poi cliccate Se avrete cliccato bene Voi vi ritroverete in un altro video nascosto Dove noi innanzitutto vi faremo i complimenti per averci trovato E dopo però vi faremo una domanda di controllo A questo punto il grosso è fatto Voi dovrete rispondere alla domanda di controllo E mandarci un'email a questo indirizzo qui Con la risposta della domanda di controllo Basta, finito Vorrà dire che avete trovato un indirizzo Brava Lo so, lo so Alla fine è più difficile a dirlo che a farlo Facciamo una prova Se io vi dicessi che a un certo punto in questo video Appare la faccia di Michele E voi dovrete cliccarci sopra Avete fatto? Avete perso l'attimo? La rifacciamo Ma è l'ultima volta In questo video l'indizio è nascosto sulla faccia di Michele Dovrete cliccare in quel momento